Grazie, Francesco Luppi al pianoforte, Fabrizio Palermo al basso e Luigi Schiavone col quale ho scritto parecchie canzoni e tra queste quella che stiamo per farvi sentire che mi auguro voi riconosciate Ci fanno compagnia certe lettere d'amore parole che restano con noi e non andiamo via ma nascondiamo del dolore che scivola lo sentiremo poi abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà cambia il vento ma noi no e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già o potrò arrivare a stare con noi è difficile spiegare certe giornate amare lascia stare quanto ci potrai trovare qui con le nostre notti bianche con le nostre notti bianche ma non saremo stanche neanche quando lo chiederemo ancora un altro sì in fretta in fretta vanno via due giornate senza fine silenzio 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 che fa familiarità e lasciano nascire le frasi da bambine che parlano ma chi le ascolterà e dalle macchine per noi i complimenti del playboy ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più cambia il vento ma noi no e se ci confondiamo un po' e per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ma ancora con noi siamo così dolcemente complicate sempre più emozionate delicate ma potrai trovarci ancora qui sì nelle sere tempestose portaci delle rose nuove cose e ti diremo ancora un altro sì è difficile spiegare certe giornate amare lascia stare quanto ci potrai trovare qui con le nostre notti bianche ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro sì sì che spettacolo che spettacolo ti continuiamo a vedere in televisione ti continuiamo a vedere in campo a giocare sei un po' dappertutto ci sono altre cose che vorresti fare e che stai preparando? beh faccio le cose che mi divertono uno deve divertirsi nella vita fare delle cose che lo stimolano adesso sto scrivendo nel mio libro numero 7 sì e poi tornerò a fare i micchi nel frattempo sono in tournée e faccio un concerto sì tanto così per passare un po' il tempo ma facciamo anche un concerto no mi piace stare in mezzo alla gente quindi è bello fare i concerti è un grande artista ed ecco a noi a Radio Bruno Estate Enrico Ruggeri grazie grazie a te e grazie anche all'estate grazie ragazzi eccolo qua attenzione che arriva Melita è pericolosissima quando arriva Melita Toglione te la presento ecco abbassero tutti siamo conosciuti a Colorado quindi non posso dire niente persona fantastica non dico niente perfetto un senso comico grazie 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 allora